Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e oggi siamo qui in un video tanto per cambiare per chi non sa che fare si guarda in video se avete altri impegni potete anche non guardare solamente per chi si annoia e vuole scoprire sta cosa in questo video vi dirò perché Sandy è un brawler Sandy che dorme dalla mattina alla sera non si vede mai un occhio aperto a parte qua che lo apre ma e già si addormenta subito bene volete scoprire perché Sandy è un brawler che dorme dalla mattina alla sera bene lo scoprirai in questo esatto momento allora guardando la descrizione possiamo vedere già i due primi righi in realtà un rigo e mezzo e già si capisce Sandy è un brawler con problemi di innosia perciò Sandy ha dei problemi cioè ha problemi di innosia nel senso che vuole ha sempre sonno e non va mai dal dottore perché gli scoccia andarci perché gli scoccia camminare perché ha sonno gli scoccia aspettare là che in realtà anche io mi scoccia aspettare due ore lì nella panchina che non ti chiamano in pratica mai ma se non problemi con di innosia purtroppo mi sa che resterà sempre così non si risveglierà mai povero Sandy ragazzi lasciate un like per supportare questo problema di Sandy ovviamente ironia beh mi sa che molti già sapevano sta cosa però vabbè ciao ragazzi spero che sto video tanto per cambiare vi sia piaciuto ciao ragazzi